salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove vedremo come smontare i pistoni della guida dei dph perché in questo caso perdono l'olio e quindi si devono smontare cominciamo sicuramente dal più dal destro che c'è una cosa in più da fare ovvero togliere sicuramente la copertura e si deve togliere il cavo che dà la posizione del timone dopodiché andiamo a togliere questa la coppiglia di sotto davanti e dietro ma primo molliamo i due tubi dell'olio diciamo 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 Grazie a tutti. Sono di 11. Vediamo se ce la facciamo senza togliere il supportino. Questo è molto buono. Bene. Bene. Adesso ho puntato lo spinotto da questo lato. Vedo che lo devo comunque togliere la piastra. La piastra che attacca i due tubi si deve togliere per forza perché lo spinotto se no non esce. Non è proprio sopra lo spinotto quindi dobbiamo toglierla. Bene. Adesso togliamo lo spinotto. Ci andiamo da sotto. Possiamo lasciare anche anesso. Ed eccolo qua. Esiste un kit per revisionarli che ora lo vedete giù nei link tra i commenti. Vi ringrazio per la visione. Se questo video è stato utile ricordate di mettere mi piace e iscrivervi al canale. e ci vediamo a un prossimo video. Ciao. 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 Ciao.